Buongiorno, sono l'ammiraglio di squadra Giovanni Gumiero e intanto grazie per questa opportunità che ci dimostra quanto l'ANMI sia al passo con i tempi, tengo sia la prima volta che faccio una cosa del genere. Volevo prima di tutto porgere un saluto a tutti i soci ANMI e un ricordo particolare a tutti coloro che sono partiti per l'ultima missione, purtroppo colpiti da questa pandemia che ci ha colpito a tutti in questo periodo. Sono entrato in Accademia nel 1975 e sono uscito con il grado di Guardia Marina nel 1979. Sono stato imbarcato su sommergibili e poi su navi di superficie. Ho comandato il sommergibile Romei ed il Sauro e ho comandato nave Danaide e poi nave Vittorio Veneto. A terra sono stato impiegato in compiti operativi alla squadra navale a CINCNAV e poi allo Stato Maggiore Marina. Successivamente sono stato designato allo Stato Maggiore Difesa sempre in incarichi di Polisi. Dopo il comando da Capitano di Vascello sono tornato allo Stato Maggiore Marina dove ho assunto l'incarico nell'ambito della Polisi e successivamente allo Stato Maggiore Difesa dove per quattro anni ho retto l'ufficio di relazioni internazionali. Promosso contro ammiraglio sono stato assegnato al comando delle forze di contromisure mine alla Spezia e da lì successivamente sono passato al comando di un gruppo permanente della Nato per un anno intero e successivamente all'operazione Atalanta. Come comandante del gruppo permanente della Nato ho lanciato la prima operazione antipirateria nel Golfo di Aden e nel bacino Somalo. Successivamente sono stato impiegato come sotto capo di Stato Maggiore alla squadra navale, poi come capo del terzo reparto dello Stato Maggiore Marina. Quando l'Italia ha assunto la presidenza del Consiglio Europeo sono stato designato come presidente di un gruppo ad hoc dello Stato Maggiore Difesa per gestire le attività della difesa e successivamente sono stato assegnato al comando operativo Interforze dove ho retto per fino alla mia partenza in ausiliaria l'incarico di capo di Stato Maggiore. Perché sono qui. Quando ho lasciato la Marina nel 2016 mi sono iscritto all'Anmi. Avevo intenzione di continuare questo legame con la Marina e di portare magari l'infa nuova per continuare ad incrementare il legame Marina-Associazione. Purtroppo impedimenti di carattere personale non mi hanno consentito di portare avanti i miei intendimenti. Quando ho risolto i miei problemi mi sono avvicinato come sommergibilista alla componente nazionale sommergibilisti che proprio in quel momento stava nascendo e proprio in quel momento si stava definendo il primo consiglio direttivo. Mi sono candidato come vicepresidente, presidente e vicepresidente e con gioia ho saputo di essere stato nominato vicepresidente. In questi tre anni con l'ammiraglio Casamassima che ho presidente che ho affiancato abbiamo visto nascere una realtà dinamica, una realtà giovane nello spirito e molto legata anche se non ha una sede fissa nel territorio nazionale ma è sparsa su tutto il territorio nazionale. Mi sono chiesto, è un'esperienza che mi ha molto arricchito e che mi ha fatto pensare, mi sono chiesto perché non cercare di portare il mio contributo in una zona più ampia nell'anni ed eccomi qui pronto ad offrire il mio spirito di servizio e la mia competenza a questa associazione. Sicuro che qualora venissi eletto la mia volontà è quella di continuare nello stesso modo in cui per questi 40 anni ho servito la marina. Sono consapevole che il contesto sociale odierno è cambiato totalmente, non esiste più la leva, la vecchia guardia si è ridotta per ovvi motivi e che reclutare soci oggi è sempre più difficile. Molte realtà associazionistiche sono in crisi e lasciatemelo dire, solo chi riesce a coccolare o a motivare i propri soci riesce a tenere il passo. Un'altra cosa volevo dire, sento con dispiacere molte volte che si parla della marina come di qualcosa di lontano dall'ANMI. Io volevo invece far capire che la marina è molto più vicina di quanto non si pensi. La marina si sforza tantissimo per l'ANMI. Oggi la marina, anche se ridotta ai minimi termini, continua nel suo ruolo e porta avanti le sue attività in modo esemplare. Se mi lasciate passare un motto del presidente Kennedy, oggi ci dobbiamo chiedere non cosa la marina possa fare per noi, ma cosa noi possiamo fare per la marina. Concludo solamente dicendomi che non sono qui per voglia di apparire. Chi mi conosce lo sa, nella mia vita in marina non ho mai portato avanti questa volontà e questo sarà per il futuro. Volevo solo offrire la mia professionalità in questo ambiente. Grazie a tutti e in ogni caso un caro saluto e l'augurio per chi sarà eletto presidente di buon lavoro.